Devono rispondere di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, due giovani gelesi arrestati dai carabinieri del reparto territoriale. Si tratta di Alessandro Italiano, 20 anni, e di Giuseppe Perrotta, di 19. Ieri sera i due ragazzi in sella ad una moto di tipo enduro fuoristrada, sprovvista di targa e di copertura assicurativa, si sono resi protagonisti di un vero e proprio rodeo per le vie del quartiere Fondo Iorza. Dopo avere l'uso in un posto di blocco istituito dalla polizia, si sono dati alla fuga. Immediatamente il dispositivo di sicurezza ha allertato e predisposto la cinturazione del territorio. I due centauri sono incappati nei militari dell'arma che a loro volta avevano approntato un posto di controllo per interrompere la folla e pericolosa corsa del motociclo. Italiano e Perrotta però non si sono fermati neanche di fronte ai militari che, in vano, gli avevano intimato l'alta, travolgendoli. Entrambi i carabinieri, seppur caduti a terra e nonostante fossero rimasti feriti, hanno continuato la loro azione con coraggio e tenacia, riuscendo a bloccare i fuggitivi. Trasportati in ospedale, i medici hanno scongiurato conseguenze più gravi per i militari. Se la caveranno con alcuni giorni di riposo. E sempre i carabinieri, in collaborazione con la Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione Sicilia, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, denominati Modello Trinacria, hanno arrestato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza superfacente, Calogero Orazio Peritore, pregiudicato di 32 anni. A seguito di una perquisizione domiciliare sono state trovate sei dosi di marijuana già divise, 100 euro in contanti e un grinder tagliaerba. La perquisizione, estesa sotto un matrasso, ha permesso di rinvenire a carico di un familiare di Peritore una somma di circa 9.000 euro in contanti, della quale lo stesso non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Il congiunto dell'uomo è stato denunciato per ricettazione.